Ragazzi, e anche questa l'abbiamo presa, e anche questa l'abbiamo presa, gole entrambe segnano nei 90 minuti più, seconda opzione, 1x più over 1 e mezzo, quindi la schedina sta veramente andando bene E per gli incompetenti di calcio che poi vengono a dire a me che non ne capisco niente Comunque, veramente, questo è ridicolo, questo è ridicolo Una partita fantastica, praticamente, finiscono ormai quasi tutte over 2 e mezzo, over 3 e mezzo, veramente una goleata infinita in questa giornata di Serie A Che, comunque sia, si riconferma dopo la giornata scorsa, a parte l'Elas Verona che ha fatto 0-0 con il Genoa, l'unica partita da under E con il Crotone che fa 1-1 con la Juventus da over 1 e mezzo Comunque, parliamo della partita fra Cagliari e Crotone Il Crotone che si porta in vantaggio con il gol di Messias La pareggia Lico Giannis da calcio di punizione Jorg Molina sacrifica un grande recupero sul pallone di Godin messo fuori dall'area di rigore del Cagliari Lo avventa con il destro e batte il portiere Cagliaritano Quindi il risultato di nuovo in parità, poi la ribalta, a fine primo tempo ancora il Cagliari che ripassa in vantaggio con Sottil, ragazzi, con Sottil E Gio Pedro chiude il discorso, fa 4-2 per il Cagliari Ormai partita finita in questo momento Cagliari che batte 4-2 Un Crotone che si presenta alla Sardegna Arena organizzato, priva di idee Con voglia comunque sia di segnare, con la voglia di andare in avanti, con la voglia comunque di non fare brutte figuracce Dato che il Crotone è una squadra neopromossa E secondo me, con il gioco che esprime anche buone potenzialità più avanti nel proseguirsi dalla stagione Di fare sicuramente qualche punto in più di quanti ne ha adesso in classifica Ragazzi, comunque, la partita è stata veramente bella Un sacco di gol da una parte e dall'altra Primo tempo 3-2 Quindi già una partita come Cagliari e Crotone 5 gol in un tempo ti fa capire Ti fa capire che periodo stiamo attraversando di questa serie E per lo scommettitore facile da over 2.5 ovviamente uno inizia già a fare dei ragionamenti sul futuro Quando va a scommettere sulla serie A Complimenti a entrambe le squadre per quello che ci hanno offerto Così come Sassuolo Torino e come tante altre partite che ci sono state per ora in serie A Io vi mando un bacio a tutti, vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare like, a commentare, a condividere il video E nulla ragazzi, noi ci salutiamo, ci vediamo al prossimo video Che sarà quando vi farò sapere, vi aggiornerò ma penso più presto possibile Ciao belli